A mezzanotte di ieri 20 dicembre si è concluso il primo censimento permanente della popolazione. I numeri sono questi. Finora risultano acquisite risposte del 92% delle famiglie coinvolte che costituiscono più di 1.230.000 famiglie, ma i dati sono ancora in corso di verifica e quindi potrebbero ulteriormente aumentare. Si tratta di un risultato straordinario, in larga parte inatteso, di fronte al quale viene da dire grazie. Grazie a tutti coloro che l'hanno reso possibile, a cominciare dalle famiglie che hanno risposto in modo così massiccio alle nostre richieste attraverso il censimento. Grazie ai comuni, 2.850, che hanno contribuito alla realizzazione di questo censimento e alle 103 prefetture. Grazie particolarmente sentito ai rilevatori che con il loro impegno sul territorio hanno affrontato talvolta situazioni difficili, ottenendo un risultato così rilevante come quello che ho appena enunciato. E grazie infine a tutta l'Istat per il contributo che ha dato alle realizzazioni di questo progetto innovativo, superando delle difficoltà iniziali che non sono mancate, come spesso accade quando si affronta una innovazione. Il censimento permanente è annuale, i risultati di questo primo censimento saranno disponibili nel corso dell'anno e ci permetteranno di avere un quadro aggiornato della situazione del Paese e si tornerà di nuovo a raccogliere dati a breve scadenza. Il prossimo appuntamento è per ottobre 2019, quando si partirà con nuovi campioni di famiglie, campioni numerosi come avete visto, che ci saranno informazioni importanti per tenere sotto controllo la conoscenza del nostro Paese. Grazie quindi a tutti e l'appuntamento è a ottobre 2019.